Io sto fermando a pensare a questo Dio che guarda, e questo Signore mi ha guardato attraverso gli occhi e i volti di tante persone, per le quali io non posso che magnificare il Signore. Per lo sguardo di un momento fatto, di miei fratelli e di miei familiari, che hanno fatto la verità, la nostra città, la nostra città, la nostra città, ha iniziato a crescere e poi la nostra città. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.